Dimmi un po', ti ho aggiunto qualche domanda di tradimento. Vabbè, mi piacciono. Allora, cosa pensi della fantascienza italiana in questi ultimi anni? Devo ammettere che io non lego tantissima fantascienza italiana, anche perché non è che ce ne sia tante. No, ce ne sono pochissime. Quindi è anche un po' difficile orientarsi, anche perché a me certi giorni non piacciono tanto, non piacciono le storie troppo tristi, troppo, un futuro troppo deprimente. Un po' le scanso, sono un po' più sull'ottimismo io, quindi leggo le trame e dico, oh Dio, no, forse è meglio che la no. Ti capisco un po'. No, beh, allora, trovo che un difetto della produzione culturale italiana in generale, gli ultimi, direi dagli anni settanta in poi, c'è un po' questa cosa introspettiva del menatone, vero? Ma non solo nella fantascienza, cioè un po', soprattutto nei film, no? che ci sono questi borghesi che hanno i problemi con le donne, i problemi con la... Ecco, ecco. Ecco, mi piacciono altre cose, quindi, no, e poi vabbè, c'è la fantascienza che vediamo gli scaffali, che è una cosa, è quella che non vediamo gli scaffali, gli scaffali sono anche molto piccoli, tra l'altro, quindi vediamo pochissimo, è quella che non vediamo del sottobosco, del self-publishing di cui faccio parte e ci sono invece delle cose molto interessanti, perché? Perché non seguiamo questi trend, ma scriviamo quello che ci pare per chi ci ama, va bene, chi non ci ama, ciao. Guarda, no, tra l'altro, sì, io sto scoprendo veramente un mondo, ma veramente interessante, cioè io sto abbandonando piano piano, diciamo, i canali ufficiali per mancanza di tempo e sto andando sempre di più a leggere, ascoltare, vedere cose di gente che usa la... benedetta la rete, quando sento in tv che vanno i giornalisti soloni, di solito sono quelli che hanno più di 50 anni e vivono, cioè con un'idea di società che è rimasta più o meno ferma agli anni 70 e che sparano questi pistolotti moralistici sui pericoli della rete, no? E io, quando mi è capitato in rete di parola, dico, cioè, certo che vanno a parlare male di un media su un altro media che in 25 anni ha fatto più danni di una bomba atomica all'intero paese, no? Cioè, che a colpi di tette e culi ci ha massacrato, per cui, va bene. Allora, invece, adesso parliamo proprio del discorso appunto del sottobosco della rete che poi è sempre meno sottobosco. Allora, visitando i tuoi profili e soprattutto la tua pagina web, ho visto anche delle interviste che tu hai rilasciato da altri blog, altri siti, sul tuo discorso dell'autopromozione, che vuol dire che sei arrivata da sola a... Sì, è self-publishing e poi appunto anche la promozione che appunto fa parte di tutto il discorso. È un discorso lungo, cercherò di essere stringata per questi... No, diciamo che anche il fatto che scrivo fantascienza un po' mi ha portato a dover scegliere questa strada, perché la fantascienza, come stiamo appunto dicendo, c'è poco spazio nei canali ufficiali. Assolutamente. È sempre stato così. È sempre stato così, anche per il tipo di storie che voglio scrivere io, che sono anche abbastanza lunghe, soprattutto la narrativa stampata a dei tempi corti, anche per motivi economici, e di conseguenza io ho cercato una via diversa. Sono anche fortunata perché quando mi sono trovata ad avere qualcosa da pubblicare, esisteva questa via diversa. Nel passato, fino a pochi anni fa, non esisteva. Ed è bello, perché comunque è qualcosa di imprenditoriale alla fine. Cioè, tu stai facendo un'impresa a te stessa, sulla tua testa, sulla tua fantasia, però ti devi comportare come professionista. Perché noi siamo self-publisher, cioè vuol dire che siamo editori di noi stessi, editori che hanno un unico autore, che siamo noi stessi. Ciò che significa che dobbiamo fare, dobbiamo occuparci di tutto, dobbiamo gestire tutto, ma non fare tutto, perché non siamo capaci a fare tutto, è impossibile. E quindi non siamo più solo scrittori, cioè non è che dobbiamo solo scrivere. Guarda. Dobbiamo pensare a tutto il resto. Sì, lo so, sì. Io più ti conosco più mi sei simpatica. Perché trovo delle corrispondenze proprio anche nel modo di approcciare le cose. Con questo blog stiamo facendo esattamente. Eh sì, ma perché poi alla fine in tanti ambiti è uguale. Sai di tutto. Ti crei anche un gruppo di collaborazione a gratis. Il mio team editoriale, che comprende una ventina di persone, comprende lettori, altri autori, perché ci sono diversi autori con cui ci scambiamo i favori. Ce ne mettiamo sul piatto le nostre competenze e ce le scambiamo praticamente. E poi magari si spendono anche dei soldi, ma senza esagerare, chiaramente un rischio di impresa minimo, chiaramente. E poi chiaramente tanto tempo, perché poi la spesa maggiore è con il tempo. Brava. Confermi, io non vivo più, ci sono sempre attaccato. Esatto. Perché poi più avanti, più si moltiplicano i progetti e più a certo punto sei alienato davanti al computer. Domanda precisa. Tu hai iniziato, immagino, a prendere dei profili sui social e poi rompendo le palle quasi tutti i giorni. Sì, no, perché comunque prima si crea, prima crei un po' il tuo personaggio. Io avevo sempre avuto un blog da diversi anni, quindi già questo crei un... Ma diciamo, perché questa è una domanda che mi chiedono spesso a me, che io non so rispondere perché ho aperto da un anno e mezzo. Hai iniziato e dopo quanti anni hai cominciato a vedere i frutti di tutto questo lavoro? Parlando di... Io ho iniziato a pubblicare il 2012. Questo è il mio... Ho iniziato il quarto anno di DataServe Publisher. I primi due anni pubblicavo dei libri a 99 centesimi, chiaramente quindi soldi pochi. Il primo anno quasi niente praticamente. Il secondo anno un po' di più perché poi più avanti, tu hai di tua disposizione e quindi si sommano. Dall'anno scorso, quindi terzo anno, hai cominciato a vedere i risultati perché ti fai un nome e le persone cominciano a comprare i tuoi libri che costano di più. Cominciano a salire a 2,99 euro, 3,99 euro e la gente scompa. Comunque io devo dire... Che sono prezzi bassi comunque. Che io ho comprato tutta la serie senza sapere che era tutta la serie. Ah, 3,99 euro scaricata su... Io me li sono letto, ho tornato su cellulare. Cioè, con una comodità, nonostante lo schermo così piccolo, perché c'è quel sistema che adatta automaticamente, ho letto perfettamente ovunque, sul treno, sulla metro, sull'autobus, ho letto la sera senza dover girare le pagine, fantastico. Ormai non sono più bella, girare le pagine mi hanno una cosa che non so poco più. Che io amo i libri, la carta e tutto quanto, però... Secondo come sei messo poi nella posizione. No, però devo dire, guarda, è stato... Stai, schiacciata. Poi 3,99 euro, un libro al minimo costa 10 euro. Sì, no, ma poi anche gli e-book, cioè, ha dei vittori, insomma, quelli grandi, anche 9,99 costano 3 euro. Sì, no, vabbè, ma loro sono dei maledetti. Sì, no, infatti... No, perché noi stiamo... Queste domande, ti dico la verità onesta, è che noi stiamo facendo anche un progetto un po' simile, ma sulla musica, dove c'è molta più concorrenza, però... È più difficile. Però io non voglio assolutamente passare per le case editrici, però... No. E allora sto cercando... Poi trovi queste società che si pigliano una parte delle vendite e ti piazzano su tutte le piattaforme a un costo... Sì, ti beccano magari 15-30%, però tu non anticipi nulla. È quello il bello, comunque è tutto in più, cioè, non stai perdendo niente. Comunque possiamo dire, insomma, un 3 anni di... Allora, diciamo, per incominciare a vedere qualcosa, il terzo anno, però diciamo che, parlando di misafalabici in generale, si dice che ci vogliono 5 anni per poter fare... Tirare le stomie e vedere come stai andando. Ah, ecco, ecco. Allora... È una maratona. Questo mi consola molto, perché, non so te, ci sono dei momenti che proprio senti lo sconforto. Eh sì, è normale. Non mi sto facendo un mazzo, no? Cioè... Poi, oltretutto, a volte fai anche degli incontri, fortunatamente online, non proprio piacevolissimi. Qualche volta succede. Niente di grave, perché nella vita succede, fa parte delle cose. Però io proprio a volte ci sono i momenti in cui sento proprio il carico, non so a te se ti è capitato. È normale, perché sono... Che dici, cioè, c'è il tuo lavoro, e in più sei sempre attaccato a sto cavolo di computer, e devi occuparti di 387 cose. Dovevi anche ricordarti di dormire e mangiare. Dormire e mangiare, lavarti. Non mi abbia anche quella. No, perché poi io faccio, curo tutta la parte grafica, il montaggio dei video, il montaggio degli audio, tutti i... Per fortuna che, Antonio, siamo proprio una binata... Vi trovate? Si, solo che lui, tecnicamente, non sa nulla. Tutta la parte informatica tocca a me. Però, no, in realtà ti dicevo, era una domanda assolutamente interessata, perché il tempo per me era un parametro che mi metteva, lo sospettavo. Eh, qua è. Direi che... Riesci a vivere tu? Ancora no. Ancora no. Ancora no, però... No, infatti, questa è un'altra domanda che facciamo a tutti, è... Ma riesci a vivere della tua musica, delle tue foto, del... Io sono una produttrice, anche, tra le cose. Sono un po' eclettica. Quindi, in teoria, in teoria sì, cioè, per il senso che è anche traduzione, scrittura, no? Però, è una cosa... No, 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 solo... Narrativa. Solo la tua passione, diciamo così. Eh... Ancora no, però... Però sto man mano spostando anche il tempo che dedico, sempre maggiore, a questa, perché anche, perché se non aumenti il tempo che dedichi, come dicevamo prima, appunto, a... a questa passione, che poi per me, io la consiglio un lavoro, perché è un lavoro. Sì, no, 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 no. Tutti gli effetti. Concordo. Le cose manolente, purtroppo, va bene, devi cercare, devi martellare, devi, diciamo, sfruttare il momento, e muoverti, e continuare ad andare avanti. Io cerco di pubblicare due libri ogni anno, e continuare così, e devo metterli sotto. Tutti sono belli, no, è vero, io faccio tre pubblicazioni a settimana, un post car radio, uno scritto, e un video, o foto, dipende, facciamo anche servizi fotografici in giro per la città, ne inventiamo veramente di... facciamo anche spettacoli. Però, sì, questa cosa qui è... cioè assolutamente... e quasi tutti comunque rispondono no, cioè non ce la faccio, sto migliorando, comunque la vita è dura. Anche perché secondo me in Italia c'è poco rispetto per il lavoro artistico, si tende a non pagarlo, questo è un altro dei motivi per cui uno dice, no, ma una cosa va detta, la rete ti consente di fare cose che prima erano assolutamente impensate. Sì, trovare luoghi a persone che prima erano inaccessibili. Allora, ti dico, io ho scoperto, io ho aperto il blog un anno e mezzo fa più o meno, mi maturava dentro da un bel po'. Ho scoperto un cantante, un duo musicale belga, italo-belga, se la seconda scrittrice, tre fotografi, cioè, la maggior parte mi ha incontrato. E' meraviglia, questa è una cosa... cioè c'è sempre anche il lato B, le cose... Certo. Però, tu quando mai avevi la possibilità di mixare un pezzo musicale con un computer da 500 euro? Sì, mai. O entrare in contatto con duemila persone? No, infatti... Senti, allora, dovrò tagliare un po' perché ci siamo dilungati, ma cercherò di lasciarla quasi intera perché mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro sei stata super esaustiva e mi ha colpito molto tutti le cose molto simili legate alla fantascienza e all'esperienza anche, diciamo, dell'autopromozione. Mi fa molto piacere. Allora, io invito tutti ad andare a visitare www.anachina.net, il mio sito... www.anachina.net, da cui c'è tutto. Da cui si parte il mio hub, praticamente, ci sono un tricone per i vari social media e per i vari libri, c'è tutto. E poi, dal nostro punto net, che invece è il mini sito dedicato al Circo dell'Aurora, qui proprio interessa più la fantascienza perché io scrivo anche altro, scrivo thriller, quindi... Perfetto. Allora, tra l'altro se ho anche un contatto con un blog che si occupa di gialli... Ah, vedi. Ti giro lì, gli dico, vai a vedere il lavoro di questa persona. Perfetto. Che si funziona così. E senti, e comunque vi invito a leggere Circo dell'Aurora perché è proprio bello, ma molto bello. L'ho attaccato e non riuscite a smettere. Grazie mille, è stato un piacere e saluto il nostro pubblico. Noi con l'Ara Balenga ci vediamo fra 15 giorni con una puntata sicuramente più scema perché compensiamo. Un bacione. Noi con l'Ara Balenga ci vediamo.